prosciutto e tono può sembrare un titolo strano ma siamo in agosto agosto del 2022 e mi è tornato in mente un agosto del 1971 51 anni fa avevo fatto la scuola allievi ufficiali perché era obbligatorio fare il militare l'ho già raccontato in altri video e ero a genova allora mia madre mio pare sono venuti a trovarmi perché loro piaceva molto la riviera ligure in quel periodo andavano in vacanza a sestri levante quindi ero a genoa sturla allora siamo andati con loro in un ristorante a nervi bellissimo sul mare vicino a genova e siccome vincenzina mia madre sapeva già che io non mangiavo né carne né pesce quando arriva il cameriere tutto bello allegro così fa guardi mio figlio non mangia né carne né pesce ma non si preoccupa adesso organizzo io organizzo io e torna quando torna vincenzina mia madre chiamiamola vincenzina per comodità le piaceva che la chiamassi più vincenzina che non mamma di vincenzina dice allora cosa ci propone ma è semplicissimo dice il cameriere un bel prosciutto e melone io gli ho detto guarda porta solo il melone perché io il maiale morto col melone non lo mangio quando ho detto maiale morto lui mi ha guardato fa cos'è detto no ma non c'è il maiale ho detto prosciutto e melone allora gli ho detto senti io ti voglio bene ma il prosciutto è una parte del corpo di un maiale morto allora lui era turbato però subito ha recuperato una bella se fa non mangi né carne né pesce no ti porto una gran bella e salatona col tonno ecco io quando ho sentito tonno con tutta l'educazione che mi caratterizza la gentilezza ma anche la fermezza e la determinazione gli ho detto senti io non mangio né carne né pesce e lui fa ho capito ho detto una gran bella e salatona ma hai detto col tonno e beh ma come col tonno ma il tonno è un pesce e lui ha fatto la stessa faccia del maiale cioè di quando ho detto maiale morto il tonno è il tonno è un pesce chiaro che non arriva come i pesci che sul piattone allungato vedi che è un pesce si vede la lisca quel tonno quello lì è un pesce allora lui poverino 51 anni fa mandiamo amore buona giro ovunque tu sia caro cameriere del ristorante di nervi nel 1971 con me non ci parla più guarda mia madre e fa signora non so proprio cosa fare con suo figlio sembravo sai al pronto soccorso la mare che porta il figlio ricoverato arrivano i medici mi danno per spacciato simbolo era affranto allora ho detto senti porta il menù poi lui ha portato il menù così e io ho guardato che nel menù c'erano tre quattro cose che ho ordinato ho mangiato ma allora perché tiro fuori questo perché qualcuno mi ha chiesto se mangio le uova una volta partecipai adesso non mi interessa neanche più andare a programma televisivo dove io ero il vegetariano e mi avevano messo in alternativa con cremonini chiamato il re della carne in italia carne montana controlla tutto dicevano che controllava il 60 70 per cento la carne e l'intervistatore siccome mi aveva già fatto delle pre domande prima intervista allora tu non mangi né carne né pesce e io ho aggiunto durante dire e neanche le uova allora lui come ci aveva scritto c'erano cerchetti non mangia né carne né pesce ma neanche le uova no no mai allora detto no una volta l'anno ogni tanto le mangio una volta l'anno e perché una volta l'anno mangio l'uovo a pasqua ma di cioccolato lui rimane pensate che cremonini per guadagnare terreno ha detto oh ma qui tutto quello che dice cerquetti dice tutta roba di spiritualità siamo pratici l'uomo discende dalle scimmie e io ho detto sì però le scimmie mangiano le banali sono vegetariano poi alla fine dopo la transizione mi ha fatto i complimenti dietro ma seppure si impaga perché uno non può essere simpatico evitando di mangiare animali morti quindi il prosciutto è pezzo di animale il tonno è un pesce e quelli che mangiano il latte prodotti formaggi voglio ricordare andate a vedere come viene prodotto a livello industriale il latte non è che nei pascoli verdi c'è la mucca col vitellino avanza un po di latte e il contadino che accarezza la mucca prende un po del latte per lui e la sua famigliola ma non è così queste mucche vengono messe in gravidanza incinte in modo artificiale alimentate male con ormoni della crescita antibiotici se non si ammalano vengono spremute finché possono e poi mandate al macello quindi quando prendi il latte industriale e quando prendi i formaggi industriali che karma crei che sofferenza crei a delle entità viventi a ogni modo ci tenevo a precisare che il prosciutto è un maiale morto e il tonno è un pesce morto e una volta che sono qua vi dico che è falso quando scrivono pesce fresco non c'è pesce fresco adesso ho visto persino la pubblicità della carne biologica ma biologico vuol dire vivo bios bio biologia studio di delle forme di vita vive come fa la carne morta a essere bio a ogni modo io vi invito a essere vegetariani ho scritto un libro se lo volete la evoluzione vegetariana se volete ve lo mando con dedica joe.cerquetti chioccio al libero punto it allora né prosciutto né tonno possiamo vivere alla grande nutriendoci di i prodotti della terra del suolo terrestre e vivere bene e fa star bene tutti evitare stragi inutili allevamenti inutili crudeltà inutile verso esseri senzienti che hanno solo la possibilità di vivere con noi condividere questo pianeta buon appetito